Fanesi, in queste ore e in questi giorni molti si sono chiesti come andrà a finire la vicenda del ponte sull'Arzilla, pedonale, ancora transennato, chi ci metterà le mani, cosa possiamo dire a questo riguardo? Sì, giusto per fare un po' di chiarezza, almeno per provare perché il ponte che è stato costruito dall'ex genio civile una trentina di anni fa è quindi costruito dal genio civile, è stato sempre menutenuto dal genio civile e adesso con la nuova riforma delle province le competenze dell'ex genio civile sono passate alla regione. E dunque per questo che c'è un po' di confusione, ovviamente noi abbiamo chiesto alla regione di intervenire per ripristinare la balaustra che appunto è stata divelta anche dalle persone che lì la frequentano, che comunque era malmessa, ovviamente senza aspettare che la regione intervenga faremo un atto di urgenza a noi come comune, come amministrazione comunale, rivalendoci ovviamente sulla regione e quindi la notizia positiva è che interverremo noi come comune affidando subito immediatamente, quindi nel giro di qualche giorno, i lavori, un fabbro per sistemare la balaustra in maniera tale che i nostri concittadini siano sicuri in attraversarlo, anche se non ci sono pericoli immediati. E' giusto un problema di immagine della nostra città a cui teniamo e quindi interveniamo noi e poi dovremmo fare intervenire la regione che è proprietaria e che ha costruito il ponte.